Ciao a tutti e bentornati sul canale di Dante's Hardware per un nuovo bellissimo video. Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al nostro canale offerte dove troverete di tutto, tra cui principalmente materiale hardware, schede video, processori, RAM, tutto quello che serve per costruire il vostro PC, vario materiale per uso elettronico, quindi troverete saldatori, materiale per il pinzaggio dei pin e tutto quello che serve, e anche materiale anime, fra cui varie action figure, fumetti e quant'altro. Vi raccomando visitatevi e iscrivetevi perché è veramente un canale ben fornito e ci stiamo impegnando per farlo veramente completo per tutto quello che ne integra le informazioni sul mio canale, quindi hardware, anime e quant'altro. Detto questo, oggi siamo qui perché praticamente io ho acquistato la mia nuova webcam, che è quella con cui sto riprendendo ora perché io ho una reflex, però non mi trovo bene, comunque mi dà fastidio, volevo una webcam buona e ho optato per questa, per la Razer Kaio Pro, che comunque va, come vedete, veramente bene, non gli manca nulla rispetto ad una camera, ovviamente non è una reflex, però ben regolata, vedete che fa comunque il suo sporco lavoro. Volevo appunto fare questa comparativa perché oramai ho diverse webcam, fra cui anche quella droid cam che uso con il P30, e quindi volevo proprio fare una comparativa per andare a vedere se si vedono veramente delle differenze fra una webcam economica, come può essere l'AUKEI da 40€, una webcam di buon livello come può essere la C920, che costano tantina di euro, una webcam come la Razer Kaio Pro, che costa 160€, ed è una top webcam, di fatto monta lo stesso sensore che monta la Elgato, Freecam, che monta un sensore Sony, e usare uno smartphone top, come poteva essere fino a qualche anno fa, il P30, però che è una delle fotocamere migliori nel commercio per quanto riguarda il reparto fotografico dello smartphone con sensore Leica, usato tramite droid cam alla risoluzione di 1080p a 30Hz. Andiamo a vedere come sono queste quattro camere viste, le guarderemo in vari ambienti, quindi alla luce un pochino più a scuro, proveremo ad attivare l'HDR da Razer per vedere se si vede una differenza sostanziale. Eccoci qua, allora abbiamo in alto a sinistra la Logitech C920, in alto a destra l'AUKEI 1080p, in basso a sinistra il Huawei P30 Pro con droid cam, e in basso a destra la Razer Cairo Pro. Andiamo un attimo ad analizzare quello che riusciamo a vedere. La Logitech C920, benché un'ottima fotocamera, in questo frangente sembrerebbe quella che ha meno qualità video, come vedete è leggermente opaca, ora non so se sia perché è sporca, ma non penso, vediamo un po'. Comunque mi sembra come prima, sinceramente. L'AUKEI purtroppo è una fotocamera grandangolare, quindi perde un pochino, però bisogna dire che in questa, diciamo, in questa comparativa per essere una fotocamera pagata 35€, che gli vogliamo dire? Che gli vogliamo dire? P30 Pro ovviamente è un sensore top, quindi sicuramente farà un'ottima impressione. Come vedete, mi dispiace, ma l'immagine migliore la fa la Razer. Guardate che immagine che fa, i colori e tutto. Comunque c'è una buona saturazione del rosso, l'ho fatta io perché mi piace sui video, ma penso che a questo punto ci sia poco da dire. Ora, prima di vedere il dettaglio, quindi guarderemo il dettaglio a fuoco e il dettaglio fuori fuoco, guarderemo come si comporta la webcam senza luce, senza luce intendo con la sola luce del ring che ho qua, che possiamo, se trovo il telecomando da qualche parte, comandare tramite telecomando. Quindi, prima proveremo con una luce più bassa. Per adesso non c'è molta differenza, forse la OK ha perso un po' di più. Spegneremo completamente la luce. Anche in questo frangente, comunque mi pare che la Razer sia la migliore per come si comporta, diciamo. Certo, purtroppo c'è la luce esterna. Fino a questo livello di luce fargono comportarsi tutte abbastanza bene, sicuramente la Razer ha il migliore dettaglio. Il P30 Pro vediamo che si fa un pochino prendere dalla luce che ho qua sul computer, anche se, come vediamo, le altre ne soffrono meno, lei ne soffre un po' di più. Andiamo a vedere il dettaglio a fuoco con la luce media. Il dettaglio a fuoco praticamente è il mio viso. Allora, la Logitech perde un sacco. Come vedete il dettaglio è veramente basso. La OK è meglio della Logitech. È meglio della Logitech, stranamente sembra leggermente più dettagliata. Anche vedete la barba, comunque si vede un po' meglio. Il P30 Pro è a livello, forse un po' meglio, della OK. la Razer Cairo Pro supera anche la camera del P30 Pro. Assolutamente. Assolutamente sì. Se guardiamo anche il dettaglio della scritta Nova, si vede proprio bene che le uniche migliori sono, ecco, tra la Huawei P30 Pro e la Razer Cairo Pro. Gli altri due non hanno il confronto. Benché la Razer sia più dettagliata, eh. La Razer. La Razer, Razer, sì. Dettaglio non a fuoco. La parte posteriore. La Logitech C920, per l'amor di Dio, ha perso un sacco di definizione sul dettaglio non a fuoco. Anche se provassi a metterlo a fuoco, comunque non... non ci riuscirete. La OK 1080p è comunque meglio della Logitech C920 come definizione. Forse è un po' più scura. La Huawei P30 Pro sembra leggermente migliore della OK ma comunque è lì lì. La Razer Cairo Pro fa un lavorone perché comunque si vedono decentemente anche i dettagli fuori fuoco. Lo vediamo sia dalla figura di Rias Gremory sul Deckplate della 3090 che è da Albedo. Cioè, basti guardare la differenza abissale che c'è fra la Razer Cairo Pro e la Logitech C920. È veramente una differenza abissale, eh? Veramente alta. Verifichiamo questa cosa con una luce più bassa dove le altre fotocamere vanno ancora a perdere mentre la Razer Cairo Pro sembra non perdere troppo dettaglio. Adesso con la luce bassa quindi con la minera luce quindi solo quella che c'è esternamenti c'è delle peritoie qui sullo studio andremo ad attivare l'HDR sulla Razer Cairo Pro. Ma come vediamo qua abbiamo attivato l'HDR sulla Cairo e come vedete cerca di sistemare i colori e tutto in maniera migliore infatti ha aumentato anche il contrasto e sembra si veda molto più nitidamente rispetto alle altre camere. Proviamo ad accendere la luce. Con la luce come vediamo è la camera che praticamente ci dà meno fastidio e ci dà il colore più reale proprio se si vede molto bene si vede veramente molto bene. Ora l'ultima prova è la risposta comunque alla velocità forse l'unica l'unica camera a livello di velocità è quella del P30 Pro la Logitech C920 è quella che tende ad essere più lenta come risposta è anche una camera che fa 60 frame al secondo 60 Hz al secondo senza HDR e 30 con HDR sicuramente disabilitando l'HDR la risposta sarà ancora molto più veloce. Con HDR disabilitato adesso si nota veramente bene come l'immagine della della Razer sia decisamente più fluida e più dettagliata delle altre cioè guardate la mia mano guardate come la riprende la Razer sembra una fotocamera quasi professionale messa a fuoco la messa a fuoco da vicino bene o male si comportano tutte molto bene ma il dettaglio della Razer è indubbiamente maggiore delle altre le nostre considerazioni finali quali sono? se noi abbiamo uno smartphone con una buona qualità della fotocamera come può essere il P30 Pro anche un Honor 10 è comunque un ottimo telefono o altri telefoni di faccia simile con una fotocamera di buon livello sicuramente possiamo evitare di comprare una webcam poiché con Droid Cam che nella versione Pro che serve costa 9 euro e ci permette di andare in 1080p 30 Hz andiamo a vedere che il P30 Pro ha comunque un'ottima resa anche andando a spegnere la luce comunque non perdiamo chissà che comunque è un'ottima fotocamera e ci permette una buona esperienza di streaming se non vogliamo spendere dei soldi per comprare una webcam decente se dobbiamo comprare una webcam qui come possiamo vedere abbiamo fascia bassa fascia alta e fascia altissima fascia bassa andiamo a vedere come adesso io per dire ho tolto la compensazione della luminosità e vediamo che la AUK al buio è leggermente al buio con poca luce è leggermente minore come la luminosità rispetto alla Logitech C920 però comunque mantiene un dettaglio migliore lo vedete già dagli occhiali e dalla barba questa cosa è un dato di fatto benché prenda meno luminosità anche lo sfondo vedete i pantaloni di Goku come sono più ben definiti sulla AUK e parliamo di una fotocamera che costa la metà di quell'altra quindi dobbiamo spendere dei soldi per una fotocamera accendendo la luce poi il gap comunque quasi è zerato anzi la Logitech forse spara anche troppa luce dobbiamo andare a scegliere una webcam e non vogliamo spendere in eresia sicuramente è meglio prendere un AUK 1080p rispetto alla Logitech 920 benché il lato microfono sia peggiore sulla AUK ma se ne abbiamo un microfono da studio comunque un microfono esterno quello che vi pare a quel punto non ci importa niente e sicuramente l'AUK come rapporto qualità prezzo è migliore anche se andiamo a perdere un po' di rivoluzione per andare a ridimensionare quella che è la camera perché come vediamo l'AUK è una fotocamera grande angolare e ho dovuto ritagliare l'immagine per fare l'immagine come le altre magari abbiamo delle cose dietro che non vogliamo far vedere come per dire le mie scarpe e la scatola delle poste per esempio e quindi questo può essere un piccolo difetto che ridimensionandolo ci fa perdere un po' rivoluzione ma che se andiamo poi a vedere alla fine non è niente di meno di quello che vediamo sulla Logitech anzi comunque mantiene ancora un dettaglio molto migliore rispetto alla Logitech lo si vede anche dall'immagine cioè vedete dietro ora magari la Logitech tende a mettere più a fuoco la parte anteriore e perde sulla parte posteriore questo può essere ma io non penso anche perché già il dettaglio facciale sulla AUK è molto più dettagliato rispetto a quello della Logitech come vedete anche dalla barba dagli occhiali si vede proprio che il dettaglio è un'altra cosa la messa a fuoco da vicino probabilmente è migliore quella della Logitech come vediamo quella della AUK è leggermente minore perché probabilmente ha una modalità di fuoco che non è come quella della Logitech ma per streamare non vedo il motivo di comprare la Logitech ma della AUK costa meno se non abbiamo limiti di spesa e vogliamo una webcam migliore ci sono varie scelte c'è la legato freecam che monta lo stesso sensore della Razer Cairo Pro c'è la c'è una vermedia molto buona anche quella c'è la Logitech Brio che è una 4K però leggermente upscalata e comunque come sensore e come dettaglio e come messa a fuoco mantiene le caratteristiche della C920 e C922 per questo non l'ho voluta prendere anche se era 4K oppure c'è questa Cairo Pro che come vediamo è probabilmente forse una delle mie fotocamere webcam in commercio bellissimi colori comunque è una messa a fuoco ottimale addirittura ora siamo senza HDR i dettagli sono ottimi la movimentazione è ottima anche la velocità di risposta come vedete è ottima perché va a 60 Hz a 1080p 30 Hz con l'HDR autofocus un ottimo sensore Sony comunque una scocca fatta molto bene un bellissimo corpo in metallo viene fornita con vari accessori all'interno e secondo me nella cifra intorno ai 150 160 euro probabilmente la migliore fotocamera che ci sia come webcam però io vi ripeto per mio parere qualunque di queste è migliore della Logitech secondo me a questo punto sia la fotocamera di un telefono buona che la OK la OK soprattutto per il rapporto qualità prezzo perché costa la metà della Logitech se non abbiamo invece i limiti di spesa sicuramente la Razer Cairo Pro ci permette anche di fare degli ottimi video senza dover comprare per forza una Reflex o una Mirrorless che sicuramente hanno un'altra qualità ma che la Razer non ci fa mancare cioè non ci fa sentire la mancanza di una fotocamera top magari non nel dettaglio massimo ma anche come messa a fuoco con una messa a fuoco manuale riesce a prendere dei dettagli veramente minuziosi e l'ho provato personalmente perché ha un'ottima messa a fuoco manuale detto questo ragazzi io vi ringrazio per essere stati qua per aver visto questa comparativa che secondo me può essere interessante vi invito come detto all'inizio a seguire il nostro canale offerte pieno di ottime offerte per tutti i generi di iscrivervi al nostro canale telegram di iscrivervi ai miei social tiktok facebook e instagram di lasciare like di condividere di iscrivervi e accendere la campanellina ci vediamo alla prossima volta su Dante's Hard ciao a tutti